Buongiorno a tutti, per la gioia di Monica, una delle nostre amiche del forum, presentiamo il West Island White Terrier. Lo puoi dire benissimo, o alla francese o all'inglese, quindi terrier o terrier. Ciao Giorgio, ben tornato. Ciao per gli amici, però Westy. I Westy. Oggi dobbiamo ringraziare la signora Rena Lotzniker dell'allevamento della riva d'Arno, per averci concesso la possibilità di riprendere questi due bellissimi soggetti. Allora, il Westy, ringraziando il cielo, a differenza di altre razze che abbiamo presentato, è un cane abbastanza conosciuto, quindi ringraziando il cielo è un cane che già si può dire non proprio popolare. E adesso ti dirò una cosa buffa, lo sai che io per la prima volta l'ho visto dal vivo quest'anno, non mi era mai capitato di poterlo toccare. Assolutamente, sì. Attenzione che penso che lui, lui, diciamo che loro, come tutti... È massiccio da morire questo cane. Sì, il peso raggiunge circa i 9 kg. Sì, non lo supera, però sembra di più. E l'altezza è circa 28 cm, questo vi fa capire in effetti quanto possono essere possenti. Allora, anche loro gruppo terrier, gruppo 3, scusate, terrier, quindi però tra tutti i terrier che noi abbiamo già visto e preso in considerazione, forse, forse, il Westyland è quello che è considerato il più dolce, il più mite, il più tranquillo. Cosa possiamo dire di loro? Allora, innanzitutto la forma che voi vedete è quella di un cane naturalmente toilettato, per cui chi volesse mai prendere un Westyland è sempre bene che sappia e che riconosca comunque la potenzialità di doverlo toilettare. Doverlo toilettare vuol dire comunque affidarsi alle sapienti mani di un toilettatore che oltre, come abbiamo sempre detto, ad una funzione estetica avrà anche una funzione proprio di salute per il mantenimento della pelle e del pelo di questo soggetto. Giorgio, una domanda. La criniera di questi cani è naturale? Beh, diciamo una cosa allora, Firenze, loro hanno praticamente una testa già di per sé abbastanza rotonda, quindi c'è un rapporto cranio-muso particolare. Naturalmente la forma poi così, diciamo rotonda, un po' chiamiamola a palla di neve, forse si può dire, viene un po' esaltata naturalmente dalle sapienti mani del toilettatore. Il pelo, naturalmente, come quello che voi vedete, è questo di copertura, che poi può raggiungere con questa praticamente frangiatura, e questa chiamiamola quasi una minigonna loro hanno, naturalmente tutto questo è un po' una lavorazione. La coda è integra, quindi praticamente deve essere portata dritta sulla schiena, e anche le orecchie così piccoline sono naturalmente integre. Quindi, ringraziando il cielo, è un cane che non viene minimamente toccato, esatto, quindi non vengono fatte delle, chiamiamole, diciamo, tagli di orecchie o tagli di coda. Questo è un campione, vero lui? Questo è un campione sociale, esatto, viene dalla Finlandia, lei invece, Black Beauty, è una campionessa italiana. Qui c'è montata anche Afra, che fa un po' di, facciamo un po' di black and white. Allora, conosciutissimo, appunto, come dicevamo prima, per il black and white, Infatti, Afra, per favore, o dentro o fuori, deciditi. Allora, il famoso black and white è un cane anche conosciuto per quale motivo? Perché è comparso, naturalmente, è nel marchio di un famoso whisky, che riconosce praticamente due razze, quella nera, che è lo Scottish Terrier, e il bianco, naturalmente, che è un West, un West Island. Negli anni passati, naturalmente, questi Terrier, diciamo, piccolini, quindi il West Island, lo Scottish, il Cairn, lo Sky, erano, diciamo, delle razze non ben così, diciamo, definite e in qualche maniera, diciamo, divise proprio per standard. Negli anni, diciamo, naturalmente, si parla di molti anni fa, naturalmente, sono state fatte delle... si è deciso, quindi, di mandare avanti più una tipologia rispetto ad un'altra, quindi, praticamente, la scelta di avere poi un Terrier bianco, in realtà, era un po' dettata dal fatto che, essendo cani che comunque andavano a caccia, anche loro da tana, quindi animali nocivi, volpe, se avesse un cane facilmente identificabile in quello che poteva essere un bosco, un sottobosco, perché, naturalmente, immagino, non so, un Cairn, con quel colore, un po' come abbiamo visto, brindle, grigio, nero grigio, grano, era un cane... Perché la leggenda vuole, e non so se è roba vera o... Io non volevo dirla, ma fai bene a dirla, perché... Che il primo allevatore di Westy sparò involontariamente al suo cane preferito, che aveva il colore di una volpe, scambiandola appunto per una volpe, e quindi si mise il buzzo buono a cercare di tirar fuori questa razza solo con il bianco per non sbagliarsi. Per non fare incidenti più di questo tipo. Infatti il bianco è il colore, diciamo, più o meno, unico colore che noi riconosciamo. Ci possono essere delle leggerissime sfumature, color, diciamo, non dico proprio biondo, però quasi color limone, eccetera. Quindi fondamentalmente il bianco... Sì, ok, lui, bisogna usare qui le... Guardalo lui, com'è incuriosito. Allora, cosa succede? Fuori scena, sempre buccia. Allora, il problema di questi cani, chiamiamolo problema, che non è proprio un problema, è quello comunque di mantenere, perché noi naturalmente parliamo sempre di cani che poi andranno a vivere nei nostri appartamenti, quindi nelle nostre città, che andranno a vivere comunque in una città dove naturalmente lo smog, le polveri, gli allergeni possono creare determinate predisposizioni, diciamo, ad allergie cutanee e naturalmente a sporcare il mantello. Perché questo è il loro tallone da kill, avere la pelle delicata. Diciamo che, esatto, la pelle loro in realtà ce l'hanno, delicata Fiorenza, perché è verissimo, però diciamo che diventa ulteriormente più sensibile, più delicata, perché naturalmente per mantenere un cane bianco, così purtroppo vive in una città, normalmente uno è predisposto a lavarlo con una certa frequenza. Quindi quello che vorremmo oggi dire è, va bene, i piedi e le zampette naturalmente sono quelle che si sporcano di più, per cui vanno sicuramente lavate. Quando voleste farlo usate sempre dei saponi acidi, quelli che vengono, innanzitutto che siano specifici per cani, e che poi abbiano quel famoso pH 3, 3,5, che quindi non va a offendere tanto il film lipidico e ha un'azione, diciamo, sì, battericida, ma non troppo aggressiva. Perché, come dicevi tu Fiore, potenzialmente questi cani hanno delle dermatiti allergiche, per esempio hanno un'intolleranza alle pulci, quindi importantissimo... No, scusate, alla saliva delle pulci, io non sapevo che le pulci avessero anche la saliva. Ah no, e devo dire che in determinate razze, specialmente in questa, creano dei danni non indifferenti. Spesso alle visite vengono portati dei cani con delle dermatiti veramente catastrofiche, quindi pelo completamente caduto, pelle arrossata, piccole croste, poi col grattamento loro vanno a peggiorare. E certo. E poi alla fine, diciamo, il vero unico problema magari è una sola o due pulci che girano sul mantello, sulla pelle del cane, creando tutto questo scompenso. Quindi fondamentalmente con il waistline ricordatevi di tenerlo pulito in realtà lavorando molto con le spazzole, quindi cercando quotidianamente di spazzolarlo in modo da rimuovere il pelo morto e rimuovere anche questi magari detriti piccoli allergeni esterni. L'uso di sciampi naturalmente cosa va a fare? Va numero uno a inficiare la durezza di questo pelo che come tu senti è particolarissimo e poi andrebbe ipoteticamente, se non sono sciampi naturalmente adeguati al cane, andrebbe ad impoverire quello che è il film lipidico, predisponendo a questo punto l'insorgenza di ulteriori patologie cutanee. Quindi a volte uno pensa di lavarli, lavarli e noi abbiamo sempre detto lavateli, però specialmente in questa razza forse i bagni vanno fatti con un po' di cautela e un po' di attenzione. Al fine poi diciamo di ridurre forse insomma in qualche maniera contenere quelle che potrebbero essere delle patologie cutanee è suggerito anche l'uso di integratori con acidi grassi insaturi, sono molto utili e un'altra fonte diciamo più o meno di utilizzo nell'alimentazione di questo cane sono le alghe marine che hanno un'azione sia a livello diciamo pigmento, per cui hanno un'azione a livello diciamo del tartufo e della rima congiuntivale, in più debolmente essendo naturalmente ricche di iodio stimolano un pochettino la tiroide e sembra che questa stimolazione possa creare una predisposizione diciamo favorevole al mantenimento della pelle sana. Quindi sono due piccoli accorgimenti, anche la fonte di proteina diciamo del mangiare non dovrebbe mai superare un 24-26% perché gran parte naturalmente delle allergie cutanee possono poi riconoscere determinate diciamo allergie alimentari e a volte gli alimenti specialmente se quelli del commercio appunto come abbiamo sempre detto molto bilanciati riconoscono a volte delle fonti di proteine un po' troppo esagerate, per cui ricordate se avete un West Island di fare molta molta attenzione all'alimentazione e questo insomma più o meno per quello che concerne le patologie diciamo della pelle. Altre diciamo più o meno fastidi, anche qui vorremmo sempre dare, lo ripetiamo un po' Fiorenza forse alla nausea, però è importante che qualora voleste diventare proprietario sempre di un West Island sempre rivolgetevi a un allevatore perché cosa succede? Loro possono essere portatori di alcune patologie ereditarie e naturalmente solo un allevatore serio ha la conoscenza di quello che è praticamente il pedigree quindi la genealogia vi potrà naturalmente diciamo escludere certe situazioni un allevatore serio sicuramente prima di far riprodurre il suo cane lo porterà ad una visita specialistica oculistica dove praticamente il veterinario andrà a fare appunto questa visita e andrà ad escludere l'ipotesi anche se remota che ci possono essere delle oculopatie sempre degenerative tipo non so le cataratte giovanili quindi naturalmente solo un allevatore può fare questo spesso diciamo anche noi ci troviamo di fronte a delle situazioni abbastanza spiacevoli con dei proprietari abbastanza diciamo giustamente addolorati ma d'altronde cosa succede? Se il cane viene acquistato naturalmente o viene appunto a volte anche regalato e la fonte diciamo non è conosciuta e quindi a questo punto uno va incontro a tutte quelle incognite Certo Allora come dicevamo prima il terrier è sempre No ma è da mangiare comunque lei eh Lei La mia dolcezza è infinita proprio non ci ha mai visto Black beauty Eppure sta lì che dai base No questo per farvi capire che di tutti i terrier come abbiamo detto sono naturalmente forse non dico i più tranquilli però sono quelli più disposti ad essere diciamo non proprio cani da grembo per carità No ecco questo infatti lo volevo sottolineare che non sanno proprio volentieri tranquilli No no c'è una leggenda che dice appunto che non c'è né acqua troppo fredda e né buco troppo profondo dove un Westy non possa arrivare questo per farvi capire in due parole però diciamo che comunque sono cani estremamente gentili molto molto tranquilli e ripeto la loro particolarità è proprio questa questa di avere questo magnifico mantello e questa stupenda torrettatura quindi noi inviteremmo chiunque voglia prendere un Westy a tenerlo comunque in ordine ricordatevi tenerlo in ordine non vuol dire avere tra virgolette un bel canio vuol dire fargli anche un altro regalo per quello che è la salute del pelo perché rimuove tutto il sottopelo Sì insomma non si fa soltanto per una questione estetica Esatto bravissima brava Fiorenza Non si fa solo per una questione estetica Ma per la loro salute E poi cos'altro possiamo dire dei Westy? Basta mi sembra che hai qualche altra domanda Posta che hanno anche un buon carattere Hanno anche un ottimo carattere Un po' stufato E beh d'altronde sapete il tavolo purtroppo Siccome sei un campione Fatti vedere Eccoci Allora Giorgio ci salutiamo Senza dubbio Ci vediamo domani Vi voglio ricordare il nostro sito www.alice.tv Prendo noi che ragazzi sembra vincere 9 chili Abbiamo detto 9 chili Sì ma è 9 chili di... Tamugno Un abbraccio a tutti e a tutte le amiche del forum Monica Ciao Facciamo la possibilità di riprendere questi due bellissimi soggetti Allora il Westy Ringraziando il cielo A differenza degli altri razzi che abbiamo presentato È un cane abbastanza conosciuto Quindi Ringraziando il cielo è un cane che già si può dire proprio Non proprio popolare E adesso ti dirò una cosa buffa Lo sai che io per la prima volta l'ho visto dal vivo quest'anno Non mi era mai capitato Di poterlo toccare Assolutamente Sì Attenzione che penso che lui Non si lancerà Lui Sì diciamo che loro come tutti in inglese quindi terrier o terrier Ciao Giorgio Bentornati Ciao per gli amici però Westy Allora I Westy I Westy Oggi dobbiamo ringraziare la signora Rena Lotzniker Dell'allevamento della riva d'Arno Scusate Per averci concesso Il peso raggiunge circa i 9 kg Sì e non lo supera E l'altezza è circa 28 cm Questo vi fa capire in effetti quanto possono essere possenti Allora anche loro gruppo terrier Gruppo 3 scusate terrier Quindi però tra tutti i tempi Buongiorno a tutti Per la gioia di Monica Una delle nostre amiche del forum Sì Non la conosco Mi dispiace Presentiamo il West Island White Terrier Esatto Terrier scusa Lo puoi dire benissimo La francese o la lingua La francese o la lingua